Ciao a tutti Doggy! Io sono Doggy Color e con me oggi ci sono due amiche molto speciali ovvero Eli e Clara! Ciao ragazze! Eccole! Ah giusto oggi non sarete soltanto Doggy ma anche Koui e anche Lamby! Ciao ragazze! Allora... Allora sì vabbè viene censurato! Allora... Oggi faremo il tour delle case! Allora... Iniziamo da questa! Questa è la casa di Eli! Ma ragazzi... No 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 aspettate! Non possiamo entrare perché ci sarà un video apposito! Quindi per ora non c'entriamo! Cambiamo! Questa è la casa di Anna Rosa Gattina che è la prima casa... La prima casa buonanotte! Sì la prima casa che visitiamo è che gioca da un giorno! Andiamo ragazze! Sì siamo con i nostri... Io con Doggy dato che... Ok è pure aperta! Perfetto! Oh! Carina! Ah ragazze dovete dare anche un voto alla fine! Ush! Oddio! Chi è? Oddio ragazzi è il proprietario! Ah è il proprietario! Ok! Aiuto! Hi! Vabbè! Comunque a parte questo! Bella! Bella! Carina! Carina! Perché ci sono anche queste per votare! Ah ragazze! Ragazze! Prendete questa! Prendete questa! Prendetela! E tenetevela! La troverete nei tuoi! Allora! Ok! Ok! La casa io le do un... Ok un attimo! Prendiamo la paletta! Io le do un 7! Clara vieni a prenderla! E dopo ragazze la troverete nei tuoi! Per prendere... Per votare le tate! Ok! No aiuto! 7! Vediamo un po'! Che hai scelto? Che hai scelto? 6! Sì perché mi piace però non tantissimo! Ok! Andiamo! Andiamo via! Perché questa ora ci toglie! Mamma mia! Per ogni casa ragazzi! Andate nei tuoi! E la troverete! Allora! Buttiamoci! Doggy! Doggy! Dove sei? Ok! Eccolo! E anche ride ragazzi! Guardate quanto è carino! Ok! Eccole qui! Eli è rimasta dentro a parlare! La seconda casa! Oh! Giocata 81 giorni! Ok! Eli è stata trasportata! Entriamo! Ah! Ah! Molto... Ok! Eh sì! Sì! Cioè carina! Ok! No! Non mi piace! No! Prendete la paletta nei tuoi! Che voto date? Io do... Non mi piace sinceramente! No! Non mi gusta! Originale! Allora! Sì! No! Non ci piace! No! Anche Clara ha votato di no! Perfetto ragazzi! No! Anche carina! Vabbè! Vabbè! Sì! Sopra fa molta pietà! Molta pietà! Troppa pietà! Sì! È un funerale! Quasi quasi! Oddio mio! Vabbè! Andiamo! Usciamo per favore! Che non riesco a stare in queste case! Allora! Doggy! Perché non mangi? Mangia! Un attimo! Magna! Ok! Perfetto! Allora! Andiamo! E lì ci sei! Non c'è! Perfetto! Andiamo in questa casa piccolina piccolina! Questo qui gioca da un giorno! David! David 1 o 2! E non ha arredato! Ah! Eccolo! Ciao! Ciao David! Noi ci salutiamo nel video! Non ha arredato! Vabbè! Non diamo neanche un voto alle case non arredate! Oh! 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 Ragazzi! Abbiamo questa che gioca da 68 giorni! E! Ah! Ha la casa quella! Modern house! La! Non ricordo mai come si chiama! Ragazzi! Teleportatevi! Perché! Dai! È carina! Ok! Ragazzi! Ci siete! Oh! Eccola qui Clara! E lì sempre in ritardo! Allora! In pratica ci sono soltanto tappeti rossi! Eccola! Ehm! Allora! Comunque l'ha arredata! Pensavo non l'avesse arredata all'inizio! Perché la maggior parte delle persone fanno sta cosa che non l'ha arredata! Però! Io do un mi piace! No! Perché non mi piace! Un mi piace! Perché comunque l'ha arredata! Mi piace! Ok! Eccola! E lì? Che cosa? Ok! Un mi piace! Abbiamo dato tutte un mi piace! Ah no! Sei! Carino! Carino! Vediamo un po' il piano di sopra! Fiocco! Ehi! Vediamo un po' il piano di su! Petroom! È troppo rossa! Forse lui è il proprietario! Non è lui! Ah no! No! Non ti possiamo invitare alla famiglia! No! Non mi piace! Non mi piace! Vediamo un po' questa! Troppo giallo! Ok! Che il giallo è il mio colè preferito! Però mi sembra un po' eccessivo! No ragazze! Quindi vi piace? C'è uscita! Bene! Bene! Aspettate! Fatemi vedere! Ok Clara! Che cosa ci dici? Non ti piace vero? Ok! Perfetto! Neanche a me piace! Ok! Anche Eli! Penso non le piaccia! Perché ha detto... Non è il suo genere! Vero? Vero Eli? Yep! Yes! Ok! Andiamo! Ok! La prossima dovrebbe... Vabbè! Questa gioca da 4 giorni però neanche trovato! Oh che carino! Questa gioca da... 222 giorni! Ma l'ha fatta! Ah! Ok! Gioca da tanto! Però troppo grigio! Troppo! 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 Vero ragazze! Vabbè! Io per... Perché è anche stata cattiva a chiudere! Io le do... Un 1! Soltanto perché l'ha ridata! Ecco! Non me gusta! Non mi piace! No! Allora! Vediamo un po'... No! No! Appunto! Appunto! Ma io vorrei vedere questa! Perfetto ragazzi! Questa è Robux! Perché ha la faccia qui su! 7 giorni! Andiamo! 20 euro! Cadini piccolosi! Non è il mio genere! Ah! Eccola! Ciao! Ciao! Ti saluto! Ameno nel video! Perché è Robux! No! Vabbè! Scherzo! Allora! Hi! Emma! Allora! Scriviamo! I'm YouTuber! Ah! Ok! Siamo delle... YouTuber! Ah! No! Clara sta... È italiana! Ha detto ma... Ok! Stiamo visitando le case! Se vuoi mi puoi mandare l'amicizia per giocare! Per giocare alle volte con noi! Sto andando in... Ah! Ok! Ok! Tipo si sta dicendo oddio delle YouTuber! Eh sì! Oddio! Troppo bello! Ecco ragazzi! A me piace tantissimo... Vedervi... Cioè... Stare con voi ecco! Con voi doggy! Ma solo se ti va bene! Certo! Certo! Cerco! Vabbè sì certo! Certo! Io che sbaglio pure a scrivere! Cerco! Siamo nuove! Ci chiamiamo... Ci chiamiamo... 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 Doggy Color! Ok! Perfetto! Allora... Questa casa... Questa casa... Questa casa... Un attimo scusate perché è successa una piccola cosa... Vabbè! Aspettami! Non vogliono che mandano amici se le persone conoscono... Ah ok... Tranquilla... Sorry! Ok tranquilla! Vabbè ragazzi! Non vuole! Comunque... Continuiamo! Questa io le do... Comunque è stata... Non ci ha buttato fuori! Io le do un 8! Perché comunque è molto carina questa casa! Tu Ely! Vediamo! Vediamo che le dà... 9! Sì sì! Mi piace! Mi piace! Anche questo gliptone è carinissimo! Come vestito! Cambiamo casa! E invece... Clara le dà un 7! Oddio ragazzi! Questa è giocata a 260 giorni! Io neanche nei miei sogni me lo posso sognare questa cosa appunto! Che gioco da così tanto! E ha la casa con i Robux! Quindi andiamo a vedere! Allora... Ciao! Ok! Psico! Forse è un psicologo? Non lo so! Psicopatico? Non lo so! Bella! No ragazzi ma è bellissima! Allora il salotto non l'ha arredato! Va bene! Però è carina! Allora... Vediamo un po'! Prendiamo già la spatola! La spatola non si può sentire! Prendiamo un po' questa! Io le do un mi piace! Sì! Mi piace! Però soltanto per la cucina! Quella lì! Mi piace! Mi piace! Mi piace! Mi piace! Carina! Carina appunto! Sì! Carina! Allora! Ah! Eccoti di nuovo! Ecco! Quanto dai tu? Eccola! 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 soltanto per quella stanza! Ok ragazzi! Comunque! Eccola! 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 Tantissimi! Tantissimi! Like! Ely ma tu dove sei finita nel mentre? Non lo so! Teleportiamoci! Ciao! Ciao! Ciao a tutti!